Posizione dei veicoli sulla gareggiata I veicoli senza motore devono circolare il più possibile vicino al margine destro della gareggiata I veicoli senza motore senza motore So che ne dè inche nì honda Devono circolare che un'annò chalna paga il più possibile Je ne sambav ho saka vicino, nere, al margine, kinaare, destro, saccche, dala kare jata So che ne sattacca, che ne saccche, che ne sambav ho saka Che un'annò chalna paga, un'annò chalna paga Je ne sambav gattia bina motore Che un'annò chalna paga il più possibile vicino al margine destro delle gare giata So i te vedi a saliare ci paga il ci paga Che un'annò chalna paga il cattacca, non lo fai senti a dare Possibile dire al margine destro della gare giata If i vedi a cosìvicoli, chi ti ne dà instracciolina, tu non dà in viaggio il nostro corso Il punto attrazione, perché si aveva un retro che in questo caso non sono inviati alla città, E' alla sua tutta la possibilità di un'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'. Il più possibile, che si traccia, ce qui si traccia, ci si traccia, al margine d'essereo, margine d'essereo, si traccia il risultato, si traccia la famiglia, se a chi ci traccia il risultato, come vediamo il risultato, il risultato di corpore, si traccia i risultato, Quindi, se si è riuscito a fare un'elemente, non si è riuscito a fare un'elemente, non si è riuscito a fare un'elemente. questa cosa è la question di cui si accadeva, se ci sono i problemi di cui mi sono andati, se ci sono i problemi di cui mi sono andati, quindi mi sono andati. Quindi, se questo è il caso di cui mi sono andati, mi sono andati, si si accadeva molto facile. Il filo bus è il filo bus, il filo bus è il filo bus è il filo, che si accadeva in un'altra parte, il più possibile che si accadeva, il nostro corso il nostro corso gratuito ma' üzere motoria e motoria e pulona sono a creare sui camminare curazione di emergenza quindi hanno fatto una volta che c'è corse di emergenza perché non sono un po' quindi si tiene zuce la accera dell'acqua quando si è si è un problema o c'è poi si può fare poter o c'è un va o c'è un'acqua che è difficile quindi che le ballone o quelle donne di norma gli alfatti sullaparte ricordi che il giovane sullaparte che si vedono e si si vedono il singolo e che il sangelo a cattore forti con everything regula tutti negli professioni Pondi che sm 불omال lotus, so ilروico della macchina Il problema che ci sono tracciato, dove aveva? Il da settimana, dove abbiamo r tables, Leaders communication Le volte consapevole da top й una resposta Questiona di Ghi EuTime Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info paralele paralleli 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 line di avicca utilizzando le corsi e riservate alia autobus vartade hoi corsi e riservate che riservate che riservate che riservate alia autobus di l'e a te aivico lì inservisio pubblico d'e ognà gandhiya da lì c'è della pablic sewa d'e lì legge ...che corse errazzate che riservate are riservate che riservate che riservate che riservate raffa d'e ognà di lì inservisio pubblico leago ca corse erraga la autobus che riservate alle soli che corse erraga corse e inserisio pubblico così non possiamo fare in questo caso è intensa o trafico 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 o si aumenta la Burada Scenso della sorta di posizione su Vickols si aumenta la scena, in mille si aumenta la sua scena 2 scena della scena 2 scena cioè 2 scena la scena del tutto il tutto è accettato luce passi da nu aria magari te due corsia te doppio senso di marcia mal che dove passi di avanti senso unico vanno e doppio senso su strade a doppio senso di marcia con due corsie su strade cercante a doppio senso di marcia che ditte dove passi di avanti aia con due corsi do corsi di nale come in figura che vengi piccari davecchia in gro chando al trivico li chido tano mil diyanne core vehicles postar si tu si apne aamnoo postare karo il piu vicino posibile che jinnna sambab ho seke al margine destro sardje ginaare vaal della kare jata sa d'e marlo hoon marlo mai eitthe chal raya ma a meri gatti chal di per il mio cuore per fare la posizione di B ripetere a 2i sensi del marco due corse in corrispondenza di un 200 ripetere a 1i sensi del marco la posizione del marco che si fai 2i sensi del marco i due corse o due corse in corrispondenza di un 200 si dov'essi mettere 200 mili o di te so che tu hai ma l'eo tu hai 200 te ho tò pire kishtra karo ghe ti ghi su strada a dopio senso di marcia sadak te jette dommi passi di avacchai ya kondue corse d'o corse di nal komin figura jime picture d'evec ev koli jde vahan ne jde vahikals ne se per corno il trato di salita l'ogra con la cacciare ne do un dottso e che d'essero sanno tene il si più possibile che un'annò raricona paga che non si s'abbav ho sanno che vedi cino nere al margine e che non arvando d'essero sgge dalla carri già da sara da bescocci di ci si chatti chatti Sì, Posizione dei vicoli, su una strada, un sacco, e fare giàate, separate. So, se fare giàate, separate. Separate, come? Avevico, party, trafico, vizio. In correspondence, un 200, che un 200, su strada, e due fare giàate, separate. Opposite, Ise, ho, vizio. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 . . . . . . Il nostro corso il nostro corso il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Quindi il nostro corso è un corso e il nostro corso è un corso è un corso. che c'è due corsi a doppio senso di marchava dove passate ava già in figura piccata vecce si deve impegnare tu si viettacar sagde ho tu si vart sagde ho quella di sinistra o khabbeva la solo per il sorpasso overtaken dali belcolo nelle strade composte da una kare jata a due corsi nel strade saadkaan de vijja composte jde banhe hundi a da una kare jata eke kare jata tu a due corsi e dho jite corsi hundi a a dho pio senso di marchava tu hai pasadi avajai hundi a in figura jim picheve si pomar chaare phile parallele ohi svaal so false naii tu si feele parallele parallel line decoding naii chal saakde oso dali corsi in una strada a dho pio senso di marchava kondue corsi so paag diisra edha ohi in una kare jata ek saadk de vicce a dho pio senso di marchava dove passati avajaiya kondue corsi e dho corsi naal comment figura cime picture vicce evi evi koli vikles ne devonu chirku laare khi chalna paega nela corsi a di dhastra so corsi a di dhastra vaal bilkul impeniyan dho quela sni sthra khi vart saakde ho oho khabba peril sorpaso overtake karande lai so ta nuvi patava je dho linee tra te jate ya so strisya tra te jate ya oho dhe vechi kiya tra te jate dhe vechi ya jibhe toto 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 ke bani ya oho dhe vechi tuhi sorpaso gaar saakde ho aga nahi tra te jate hai ghe da phir chese siddhe ya istra ethe siddhi linee banhiya ta phir tusshi sorpaso nahi kar saakde ho aga oho dhe da le corse in una strada doppio sensi di marcha kontra corse so edha paag pehla aga kandha ki usu dalai corse 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 di vartu in una strada ek sada te a doppio sensi di marcha ki dho eme paase di ava chai ya kontra corse te ne corse na so idro gandhiya jari iadro vya ariya so a corse e da phiria ta decoding ahi da corse e ka adli hooga eme rechihaar na surpaso li ho saakda haana vekh deyaan padeke su strada adopio sensi di marcha saadakte dho eme paase di ava chai ya kontra corse te ne corse e dan al comment figura vya je mei picture vich evi equali posno uusare la corse ya centra alay jari vajkals ne gaddiyaan e posno uusare vart saakde haana la corse ya centra alay a center valage la corse ya va pere la marcha normali falso marcha normali lehi nahi var saakde ta nuvi patava ki e overtake lehi sorpasare lehi vartu nguya kwaandu una strada adopio sensi di marcha kontra corse jadu ek saadak kwaandu una strada adopio sensi di marcha jadu ek saadak te dho eme paase di ava jai ya kontra corse te ne corse na al comment figura je mei picture de vich evi equali jedikatiyaan e posno circulari chal saakde yaan e perfile paralleli 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 decoding nahi falso uuso delle corse in una strada adopio sensi di marcha kontra corse jadu ek saadak te a tre corse jadu ek saadak te a tre corse jadu vartu saakde ho quela centra lehi center wala solo per il sorpaso overtake arndali bilkul joe keta nu pehla hii samajaya gaya hai agge uuso delle corse in una strada adue corse per sensi di marcha so uuso delle corse in una strada corse di vartu ek saadak te vecche un'una strada adue corse jadu corse jadu corse per sensi di marcha har disha di ava jai da lehi so a dekho idde basse bhi dho corse ya itthe bhi dho corse ya so jadu iddaro jari ya unna levi dho corse ya iddaro jari ya unna levi so ee maarcha normale dhe lehi ya arm chalna dhe lehi ya arm chalna dhe lehi aa corse ya overtake karna dhe lehi dhito dhusi overtake karna so itthe arm chalna nengi ya itthe overtake huuga aa dhekho dho linea baniya so dho linea baniya kenda power siddhiyan linea baniya naak e toto toto ke so dhusi ees corse dhe inna itthe ni enter ho sako dhe so taadde kuhi taadde dho corse ya taadde passe di aava jai lehi inna gho bhi dho corse ya inna te passe di aava jai lehi ee vikoli ke percorno unna curva ee vikoli jde vikos ne percorno jo chalde ne unna curva ek morte su strada saadakte aaddu e corse ya jitthe dho corse ya ne per oni senso di marja har dhisha di aava jai lehi common figura jime ke picture de veche ya posno marchare ki chal saakde ne oltre passando la strisha discontinua par kar dhe ho e jira strisha discontinua wa thika ji se la strada e libera agajdi saadka fria so falso wa ji nai kare saakde nai kar saakde nai su strada aaddu e corse ya jisr sadag de dho corse ya per senso di marja in kaasso di intenso trafico ki paari trafic de maamle vich ii chiklomotori 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 aaddu e corse ya jitthe dho corse ya jitthe dho corse ya pere senso di marja in kaasso di intenso trafico ki paari trafic de maamle vich ii chiklomotori 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 aaddu e chiklomotori aaddu e posno cirkulare chal saakde ne sula corse ya sinistra phir ohi chee jali chikla cioonkhi corse ya sinistra chikla aaddu e sirep overtake lhe he hundar waa chikla chikla chanada aaddu e bhoot die dho corse ya aaddu e tre corse ya pere senso di marja eik, dho, tten eik, dho, tten eik, dho, tten chakandha ouso da le corse corse ya dhi vartu in una strada ecco da attracco si è giusto ten core si è per senso di marcia ha arpa se dì ava già il suo carri già te sattacate attra e corse si è ten core si è per senso di marcia su har dì sa dì ava già il come in figura . . in questo caso, il mio corso è il corso più libero, è più libero, è più libero, è più libero, è più libero, so questo è avuto, è avuto, i corso non sono più libero. ok si 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 e per ora faccio questo è il nostro corso che i raggiamenti vivieni si fanno i raggiungi che gli altri hanno riuscito a fare il nostro corso quando fanno la vera la vera la vera diretta è stata la vera che si fanno il nostro corso di ava gioia so aga l'idea idro chalde o idro chalde apne dastra bal idro chalde idro chalde arreda vichka harla kato vartiyar jandava sorbaasso karenda lì overtake karenda lì aggeji uuso delle corse in una strada divisa in due carajate separate uuso delle corse so eda paag dùsera a gya su una strada eq sađakte a dùsera kare jate separate dho sađka separate in figura picture vich si dheve percorre si dheve percorre la kare jata so chalna pae ga sađakte di dastra sajjede veer la marcha normale ke aam marcha de lì aam chaland de lì equela di sinistra jada khabbe vaada so chalna pae ova take karenda lì ma lo jdhe iththe chalde pae ovaa vartan ke normale dali jdh iththe chalde pae sorry jdh iththe chalde pae maarcha normale kaarde pae ovaa vartan ke sorbaasso dali iththo chalde pere ovaa vartan ke sorbaasso dali bas jdh iththe chalde ovaa vartan ke sorbaasso dali ovaa vartan ke sorbaasso dali so jdh dastra vaa o marcha normale jdh sinistra vaa o sorbaasso dali quindi se vediamo molto più a questo rule questo è un'unico che si avessi è un'unico che si avessi divisa interiare separati questo è unico che si avessi è un'unico che si avessi divisa che si avessi interiare ... e ovatticare lì. So, a dè vè c'è line mani a, c'è dire, siddhi a, so, a c'è line t'è nì, tu hi chal saka dè, t'à non ho i pata a, so, manahì a, so, t'à nù, dò, kari, itthè, t'à nù dò korsi e m'ill dè pè dò korsi e k'à nù m'ill dè pè a, d'yastra, aam chelland lì, sinistra, sorpas lì, d'yastra, aam chelland lì, sinistra, sorpas lì, so, a ghi a, e lì, sinistra, a, v, sinistra, nì, one way đ, so, a, s'u, nà, s'rada dìvì sa intraye kare jate ək sađak tè vandiyah hoya è intraye kare jate, t'in kare jate dè vè c'è separate, separate common figura jivè ke picture vic i vì kule, i c'è dè vè hikals dè vannò di norma ki aam tor te čirko lare, k'yun nà nù chalna pè e gà, sula kare jata kare jata tè centrale, centrale, center dhe, o, su, kwella di dèstra, ja, a, apne dèstra vall, rispetto palna kardde hoya, allà appropriate direction di marcha ki, a, apne direction di palna kardde hoya đ, xo, kandye c'erko lare, sula kare jata centrale, c'e dhe kare jata centrale, t'e kardde pè, ja, o, su, lakwella di dèstra, so, jde dèstra dèstra de chalde pè, yaya, rispetto palna kardde hoya, t'e appropriate direction nè, apne direction wall, apne, apne direction wall, oschi di palna kardde jyuthe ho, chalde pè, yaya, agge, uosho, dhelle korsi e, in unha strada, so, korsi di vartuva, in unha strada e, sa, dvisa, jo, bandde ae, in quattro kare jata phella, tre, si, hun, quattro dhiya, ki, separate, jale, separate ea, na, le strada, a, quattro kare jata, separate, quelle chanthrali, so, nho, riserva te, al, surpa, so, kandai, ki, jde center dhe, hun, deya, o, s, rukkjat rukkhe jandde, surpa, so, le, nai, jde sinistra dhe, hun, deya, o, rukkhe jandde surpa, so, le, na, ki, chanthrali, so, ee, hagawa, falso so, sta suli astra dhe extraurbane principali, so, so sta, ji, to jedo tussi parq kar đây ho suli astra dhe saďak te extraurbane principali de, Qeha Dhi suli astra dhe extraurbane principali la so sta consentita su sta dhe jawjay te, solo ne還 pusite ari siraf ya više jaga nha te, više ashava dhe, bilkul više ashava kunki, othe hair una volta che hai fatto la parola di sottore e quindi dovete fare la parola di sottore non c'è quanto riguarda la sua parte il gatto se sottore la parte la parola di sottore questo è un elemento superpa il marco abbiamo sono un dall'acqua per varie quindi possiamo andare andarci a fare la parola di sottore durante la marco abbiamo un dall'acqua per varie il formato di sottore di sottore è consentito e già già te ha cambiare change carna corsia corsia no per effettuare carrande lei manovra disvolta mordo mordo valli chale carrande le sonnano e già già te ha tosi corsia no cambia re caro la marcha per file paralleli è amessa quando viene traffi non è autorizzata dalì agenti del traffic o già da marcia giudasci chale dei ho per file paralleli paralleli è amessa che uscati i già 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 tu si car sa cosa quando già do viene autorizzata giudasci ajat mille di da lì agenti del traffic o già traffico control color carne è andato traffic puls d'vora è consentito quello che c'è la marcha non è l'attivo o parallel, ma una parte di fissera, la coordinazione e l'attive del corso, 2 corso, quindi la sensoresce di marcha. C'è un senso di marcha, che ci si è quindi questa volta che ci sanno un'indicato, ora la sua parte di un'incrocio, c'è una nuova, allora la c'è la c'è la nuova, ciò che di smito è la marcia, quindi si fa la parte, tra le pie le parallele, la seconda, la seconda è la scena, poi la scena di marcia, qui si fa la prima, ora ci si fa la scena, ora la c'è un crocio, a un crocio che di sottoline, il suono è un crocio, ora di norma, l'amore è un senso di tutto. Voi già già rin, che faremo, i fissi, per il pereo parallel, parallel line, l'ombro e il trattato di strada, l'ombre è sattaggato, che portano, che lecciano, un incrocio, un chocco, regolato, quindi ha detto che si è elegante da l'agente dell'Traffico, l'agente dell'agente 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 del'agente della trasporti' il traccio è il trafic poverso. un'acchia per il filo è parallelo, la 2 sensi del corso. che ci dice che un'acchia per il filo è parallelo, la 2 sensi del corso, il quattro 대 settore è 2 corsi annulla. quindi questo è un consente di 24 ore, quindi questa è una parte interna, quali di quattro e di quali paralleli? quindi la passione questo è una parte interna, quella che si arriva, come ti ho detto, che si arrivi all'imitere i due anni, questa è una parte interna, il secondo questo è un altro, e se tutti i due anni di fare i quali i due anni, quali i due anni di fare i due anni, che ci sono passati a fare questo. Quindi, queste cose non sono state di rinforzare. Quindi, questa è la prima volta. Quindi, questa è la prima volta. Perché la prima volta di due passi, la prima volta di un'euro, si andiamo, se si andiamo qui, si andiamo qui, qui e qui, qui e qui, qui e qui, qui e qui, qui. Arrestà al voto, il costo di farlo e tenni del migo. La strada alla parte del migo, dove in quanto riguarda i passado le progetti, si è altra parte, poi la parte nella parte che si wrestava o siete tre parti, ieri 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 del migo e ieri loro ieri sono inizia a sei attra, su strade con almeno due cose circa tecchette carto carto corse per senso di margha come in figura ci viene un piccolo di vecchia qualora il traffico sia intenso che gregge di traffico intenso pari russia si può viaggiare che tu si chiara sacate ho perfile parallele so parla l'induora per cui tu si chiara file parallele che cazate ho idrè bhi cazate ho idrè bhi cazate ho e via rowa so depend da trafic in nia trafic bhout zia dava udo e sempre consente dito hameisha ijaadat dhya via jare chalandi perfeile parallele so perfeile parallele se la carja ta agge jeda carja ta a do piu senso jitthe do piu senso va almeno due cose trafic e jada dvara control kiti gai e semiaforo dvara jaa bhout raasya idr 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 so perfeile parallele in condition di in traffic intensive do pari traffic pari rasha su karhe jata saadakte a sensooniko a track course e di sensooniko 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 quindi si fa si fa si fa si non ci sono affinati, quindi non so che ti portai la tua destra, poi andiamo, e ora andiamo, e poi ti porto di porto, e ti porto di overtake, ora andiamo, Obligi, ora è stato fatto, è un obbligatorio, quindi ci sono i tempi di cambiare, corsia so giro lìa per chi odde lei che io irà daracdava cambiare c'è giocando corsia chi intende io irà daracdava cambiare c'è giocando corsia deve controllare che non controllare perché la corsia che vuole occupare la corsia c'è giocando corsia si libera o free è davanti s'amnè per un trattato sufficient che aggè già s'amnè ecco chissà kaffi hai gà va so o giocando corsia non change carm dè lì ma lo o corsia v'yast dè a otte gàdiyà chal dè rìa va to o phir change giddà caro ga change t'a hi caro ga agar corsia free hovega chi intende cambiaare corsia jò irà daracdava change caranda corsia deve controllare che non controllare c'è giocando corsia che vuole occupare che giocando corsia che vuole che giocando corsia che vuole enter hoona chandà già chalna chandà già v'yast che giocando corsia che vuole chi intende che giocando corsia che vuole corsia corsia non per effetto aare caro ne lì un sorpa s'o overtake dè vè controllo . . . che c'è il vi colo si rupasso karndi lì so agar onnè la athava fier tannu vedi karna pò pèlà ho karjè fier tussi kar lè so kio ta dèk gaya so kii intende hoon ka lohi hagi kii intende kambiare korsia joh iradda rakhda vah change karna korsia deve senyalaare la manovra in antichipo so usnù jeda senyalaare karna paga la manovra jedi chalea in antichipo advas dewec pahla trami dhe indigatoore dhidhresyone so indigator dhidhresyone odhe dvara so maallokii hon mè ma sorpasso karna va kide sorpasso karna to pahla mè indigator laounga toki jedi gatti picche ya mèri unnuo pata laag juge kii sorpasso karna chunna indigator laounga thier mè sorpasso karuna kii intende joh iradda rakhda kambiare change karna da korsia korsia da non deva karriya aare intral cho o periculo non deva karriya aare kii us nuu nahi beno na cahida beno ne cahida di rukkawad jaan khatara pere kii pere kore pere jo jo chal raya la korsia ke wole impen yaare kii jeda o korsi de chal raya odhe lehi khatara ja rukkawad naam na ve hong maal lo dho korsi ya mei korsi chal raya idhru koi korsi de enter hoona chun dhava hong mei the chal raya ma bere lehi khatara paida ho gya na jata mei kodam break maaro ga tjee na break maara pahit o siddha accident hovega so o siddha chee di kaal lehi te e de falso tene niya pade lehi niya kii tene de jo iradda rak da kambi aare korsia korsia change karanda non nde vye asiyo na raya ki o action vye chanale kya ve na vart kare indikator dhe dresy yone direction dhe indicator yone nal lave cilastra dhe lehi lehi saadk free so ee false ho tano indicator low nai pahe nge parma tano yoye dhasa laggi 80% low pish tra dhe 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 saadk free indicator nai dovete seguire i ritornati per cambiare le corse aggiornati a obligo di signale la manovra sarà si deve andare a fare un piano con il piano di avvisato avvisato con il piano di avvisato che si deve andare a fare un piano che fosse una scena, questo è un'accusso, e un'accusso che non è una scena, non è un'accusso, quindi è un'accusso, non ci è un'accusso, è un'accusso, prima cosa è un'accusso, quindi questo è un'accusso, prima di cambiare è corse, corse, corse è cambiare, per la necessità di rio ria a chertare che la corsia si hanno separato da una striscia continuo so te da bello che ne li chiama so che hanno a che dire corsia prima di cambiare corsia corsia change carterna è necessità di rio ria a chertare che tu si accepterò che la che la corsia si hanno separato o separato da una striscia continua ote 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 discontinua hoon tannu pada jitthi siddhi line mani ote te tussi carrii nisakate corsia change tussi da corsia ote jitthi line a tot kè mani a va so discontinua so e davec veko ghi pure hii line ultra lihiya so falso so davec c'è ihi c'icc jai hoon di ghiama agghe gi so agghe ha gha obliqui giroori sia so eda hai dousra paa ghiya per quì inden dhe kambiare corsia so kanda gi quando si vuole cambiare che jato chanteo cambiare change carna corsia corsia non si deve carriare intral c'o periclo non si devecariare che nahin banonai paeggi rukavat jha khatra aki si trova sula corsia dhe impeniare che jho tannu mil rea ava jes corsia dhe tussi enter hoona ose corsia dhe lhe ki sannu nahin binaake rakhana chai dha khatra jharu kawat o dhe lhe ki jho jes corsia chasi enter hoona ma te jhe davec jho pehla hai ote te ya so e gal hoon di pahi ya haanji quando si vuole che jato chanteo cambiare change carna corsia corsia nu si devec se nelare che thannu jada sankeet dhenna peega in antichi po advance vich pehla hai la manovra di compare che di tussi avani chalnu complete carna kistra che di chalbna unia tu si avani chal carni kistra oda manovra dhoge indicator laghe quando si vuole cambiaare la corsia jado tu si chanteo cambiaare change carna corsia lhenno bisogna girooriya controlare control karna che la corsia da impeniare che jes corsia dhe tussi enter hoona ma sia libera o fria davanti per un trafico tratto sufficiente che agge ecca jaga kaffi hai ghiya che os o tre di tatti chal complete hoge agge ne free jaga hai ghiya to si avani chalnu complete carpao quando si vuole cambiaare corsia jado tu si chanteo corsia change carna si deve controlare che ta nu control par carna peega che la striscia che divide le corsia che la striscia che di line e che divide le corsia change carna si deve controllaare che tra non controller carna peega che la striscia che di linea che di video che chanje chanje cheittava gianne bandia ava le corsia 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 si arata rate jata che ho tot tot Quindi se abastica la cosa, quindi possiamo fare un taggingo, 6 armi facciate, e se si abbiamo avuto questo caso, quindi possiamo fare un taggingo nella istrana. Adesso tu vi invito a organizzare un taggingo la cura della stessa. quando si vuole cambiare corsia bisogna controllare che sulla corsia che corsia te che si vuole occupare che tu si investi non stiano arrivando altri veicoli che ora gandhiate ne are e ci ci so e di vi ciare hai gievi pari lindna che cosa da già da ne hai che ti ha che nelle strade urbane che di le sere di sere di consente di to ajajat è quando si vuole si vuole tra raggi si muro na chun di chir colare chalo a qual lo della striscia di corsia so che quale linea bani a os linea te nai ci ajajat nai hai gi stando di qual gi quando si vuole cambiare corsia quando si vuole cambiare corsia change carna lo so del indigatore di direzione vorto caro già vorto dei ho indicator direction da e facoltativo se ci sono stricte discontinue trate giàate so e facoltativo qui a facoltativo qui manahia se ci sono stricte a gara ti scondi non ha è buon si falsa ce ne mi sembra che sei da tu sisi vorto carna indicator di che d'eo carna di giurur ti non è che d'eo tu sisi stricte discontinue e d'eo tu sisi stricte discontinue d'eo tu hai corcha change carna lo so tu hai indicator vorto se stricte discontinue poi tu hai corcha change carna lo so quindi questo è un risultato quando si vuole cambiare le corse quando si chiamate un corse e mettere una corse si andare in un corse quindi si ci sono in un corse non accorre alcuna particolare non è necessario non è necessario loggare le corse non è necessario che si fare la corse non è necessario è falsa quando si vuole cambiare course o se tu sei chanye o change gana course o per un surpasso e cover take e obligatorio ritori e ridure cutta garo la via logica speed belgul galt se tu sei question su surpasso carnava per la vini tughi bhout avari paura chocke surpasso carna l'e ta no tato speed vado nì vantia aam jedi gatti chalde bhi o dino al tato speed jada ho nè chai di a per i tu sei surpasso caro so